Nel 2015 l'Archivio di Stato di Napoli realizzò una mostra documentaria intitolata Le rotte del cibo, commercio alimentare tra Napoli e il mondo, con il coordinamento scientifico di Rossana Spadaccini. La mostra costituiva un modulo del progetto In cammino per la terra dei suoni e dei sapori, afferente al quadro strategico nazionale per il ciclo di programmazione dei fondi comunitari per il periodo 2007-2013. In quella occasione vennero esposti al pubblico documenti sulle produzioni campane d'eccellenza, nonché sugli scambi commerciali, principalmente di prodotti agricoli esportati e importati dal Regno di Napoli tra il 1200 e il 1900. Oggi, nell'ambito della campagna Io resto a casa, promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, vi proponiamo una scelta dei documenti più significativi esposti nel 2015, in forma di mostra virtuale. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!